Come si fa di investire in infelicità? Napoli sta dimostrando che nel momento di maggiore difficoltà finanziaria ha un'esplosione di umanità, di cultura, di voglia di stare insieme. Questo sta producendo economia, economia orizzontale, economia civica, ma anche un viver meglio, perché le persone sono contente nelle sofferenze, nelle problematiche quotidiane che nessuno nasconde e nessuno ridimensiona, però basta vedere come è andato questo ponte a Napoli per renderci conto che questo è frutto di una città che crede nella felicità, quindi provare a vivere e non sopravvivere.